E' il mio Lego Pro Ma cos'è io a fine di svilettare? Eh? A fine di svilettare, questo si Ah Vai Aspetta, 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 la successione No, aspetta, aspetta, la successione Io non ho un video qua Eh, lo sapevo, dove era a scala Perché non avevo visto Non avevo visto E' un video qua E' un video qua Ah, va bene, va bene Bye, bye, grazie Qua in Alaska quando fuggiamo i salmonidi abbiamo bisogno di bevande alti Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Poi capiremo come fare Sì Grazie Eccoli Bene Bene perfetto si fa questo perfetto e allora basta solamente adesso eh vabbè certo però questo è questo è il discorso anche questo il solito giochino voglio 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 wow 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 questo è il nome voilà il nome è già stato eh sì il risultato del rumore va bene vai vai e e ci vuole e ci vuole ok 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 che si aprono fanno la retta fanno la retta e gli si lavano in cinta con lo shock termino shock termino eeeh se è con lo shock termino serve 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 wow via via andiamo a mettere foto una pizza quando vuole ok e della strada che poi ci fosse stata tutta quel caso questo infatti vedi si sbuccia bene si questo vedi ha crentato bene ecco bene bene a questo punto arrivati a questo punto di silvi cosa facciamo 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 un tocco forte ok e con il tien ecco voilà mettere il filetto e due e ci metti una tra un po' si salano appena perdano un'acqua eccomi che siamo fatti ecco qua che sia un discorso di starmi a friggetto con l'acqua si e fai un po' a tratti se no può tagliare eh ma intanto li so già i pezzi e devo tagliare non lo sai di già ma da ora a stasera allora stasera io ci metto un secondo facciamo facciamo un po' di sale bravo non è che sia non è no un po' di pepe eh no ci vuole il cucchiaio quello di eh no va bene va bene basta con forza con forza se c'hai grinta ce la fai a far no sei già perfetto il rivolto scusiamo il rivolto della medaglia ma guardate sti filetti di iridea di lago non sgombri si si non sgombri crime di prima qualità grazie 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 l'ingrediente ci faccio la vita ci scrivo gli ingredienti e la ricetta li mettiamo a mangiare ci mancano i crostini c'è il buon sottometro la pelina ecco qua ci ha un sottometro bene va bene va bello si è rotto eh ma si è rotto ma è bello bello è cotto va bene è cotto voilà si viene due pomodori voilà c'è un colore c'è un senso di essere è bello è bello se non so questo fa anche la scarpetta qui infatti voilà vai e quindi arriva poi c'è i titoli sempre ma è uguale in finale cosa c'è tellement tanto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.